Questa sessione plenaria delle regioni e degli enti locali del Mediterraneo è un'iniziativa politica, un'istituzione politica voluta dall'Unione Europea, è legato ad alcuni grandi temi, intanto alla discussione dei temi della primavera araba e in particolare delle politiche di decentramento e regionalizzazione nel sud del Mediterraneo e da questo punto di vista come si può lavorare insieme su alcuni grandi temi, prima di tutto il tema dell'acqua, il tema della formazione delle persone, della nascita delle piccole e medie imprese, i temi in generale della cooperazione decentrata.